Musica Buongiorno e bentrovati, mercoledì 12 ottobre con noi in regia Daniele Ricciuto e apriamo immediatamente il nostro giornale del mattino. A proda nel Consiglio Comunale di Sernia l'avvertenza dei cantonieri rimasti senza lavoro dopo il mancato rinnovo del loro contratto da parte della provincia. A Palazzo San Francesco è stato discusso un ordine del giorno che chiede all'amministrazione provinciale di adottare tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dei 35 posti di lavoro. Sentiamo il servizio di Enzo Di Gaetano. Anche il Consiglio Comunale di Sernia ha affrontato la delicata vicenda dei 35 cantonieri della provincia rimasti senza occupazione. Una situazione drammatica non solo per le famiglie dei lavoratori ma anche per le strade provinciali rimaste senza manutenzione. Non vedete un cantoniere sulle strade, le strade che i cespugli sono diventate due metri alti, non c'è manutenzione da nessuna parte e da un lato c'è questa esigenza di fare il lavoro sulle strade e dall'altro lato stiamo mandando a casa i dipendenti che da 20 anni assicurano il lavoro sulle strade. Come è noto Lorenzo Coia, presidente della provincia, aveva chiesto ai cantonieri di costituirsi in cooperativa di servizi in modo da partecipare all'appalto per la manutenzione delle strade ma è una scelta respinta dal comitato. No, perché è una proposta alla privatizzazione pericolosa perché i lavoratori rimarrebbero comunque esposti al precariato e non c'è nessuna garanzia che l'appalto vada a quella cooperativa e che quella cooperativa li ha su. Noi abbiamo fatto un'altra proposta, in attesa del riordino delle province abbiamo proposto l'azienda speciale che consente l'affidamento diretto e può risolvere la situazione. In più c'è una novità, noi abbiamo rintracciato un parere della presidenza del Consiglio dei Ministri dato alla provincia di Perugia dove toglie insomma dal tavolo della discussione anche l'ultimo ostacolo che frapponeva il presidente Coia cioè di eventuali paure di responsabilità per danni erariali nel caso la proroga o il rinnovo andasse oltre certi limiti perché questa normativa che consente la proroga fino al 31 12 2016 e che probabilmente sarà ulteriormente reiterata è una normativa speciale che quindi va in deroga alle norme generali e quindi non comporta nessuna violazione di nessun divieto. E la protesta del Comitato dei Cantonieri non si fermerà a Palazzo San Francesco, va avanti il presidio davanti alla provincia e sono in cantiere diverse altre iniziative. Siamo stati ascoltati dal prefetto e dal vice prefetto e da loro aspettiamo un tavolo che ci è stato promesso con le parti. L'onorevole Venitelli è venuto al presidio e ha detto che è un problema politico e quindi evidentemente se sanno muovere questa politica che oggi si ferma di fronte a due mesi di rinnovo di contratto voglio dire forse siamo al dunque. Domani saremo dal vescovo che ovviamente vorrà ascoltare le nostre ragioni. Fra qualche giorno con ogni probabilità saremo anche convocati dalla regione perché pare che il presidente Fattura venerdì faccia sapere qualche cosa. Si sta interessando una cosa anche il presidente del Consiglio regionale Cotugno che ci ha fatto sapere che con ogni probabilità domani passerà al presidio. Il consigliere Scarabbeo ha chiesto le carte per preparare un'interrogazione regionale. Insomma ce n'è di tutto e di più. Ma la cosa più importante io direi anche più sensibile è che venerdì avrete un comunicato in queste ore alle 15.30 davanti al presidio noi intitoleremo questa nostra lotta e questo nostro comitato a uno dei Cantonieri che purtroppo è prematuramente scomparso. Sarà presente la famiglia. A lui sarà intestato il nostro comitato e questa lotta continuerà ovviamente fino ad ottenere quello che è un sacrosanto diritto. E cambiamo argomento. L'Associazione Costruttori Edili del Molise parla di una nuova tegola sulle imprese del settore. Dal 1 gennaio fa sapere scatterà l'obbligo di pagare il cosiddetto ticket sui licenziamenti e le ditte dovranno versare ogni qualvolta licenzieranno circa 490 euro per ogni anno di lavoro prestato dall'operaio fino a un massimo di tre anni. Secondo le stime dell'ACEM per rapporti di lavoro superiori ai 36 mesi il datore dovrà sborsare 1500 euro per ogni lavoratore appunto licenziato. Una tassa insostenibile ha detto il presidente dell'Associazione degli Edili Corrado di Niro che le imprese non saranno in condizione di sopportare. L'ACEM quindi ha scritto al ministro Poletti ai parlamentari molisani e all'ANIEM, organizzazione nazionale di appartenenza, chiedendo l'abrogazione della tassa per il settore o quantomeno per le ipotesi di licenziamenti operati per completare le attività e le chiusure di cantiere. E un nuovo step sull'ipotesi del passaggio della Capitanata, la zona settentrionale della Puglia al Molise. Il presidente della provincia di Foggia, Francesco Miglio, ha infatti convocato nella sala consigliare dell'ENTE alle 16 di domani il consiglio provinciale in seduta congiunta con l'Assemblea dei Sindaci. Unico argomento all'ordine del giorno, determinazioni sul referendum provinciale sul passaggio della Capitanata dalla regione Puglia al Molise. Se cambiamo ancora argomento, all'ex GIL di Campobasso è stata presentata la stagione teatrale 2016-2017 in programma all'Auditorium Unità d'Italia di Sernia. Tanti gli appuntamenti dal 24 ottobre al 19 marzo. Sentiamo il servizio di Patrizia Testa. L'amministrazione comunale di Sernia conferma il suo impegno nel campo della cultura come promesso in campagna elettorale. Il sindaco da Pollonio è venuto a Campobasso per presentare la stagione teatrale che andrà in scena all'Auditorium Unità d'Italia di Sernia. Una struttura grande e impegnativa, parliamo infatti di 750 posti disponibili. Un ricco cartellone di spettacoli realizzato insieme alla Fondazione Molise Cultura e alla regione. 11 appuntamenti, un modo per valorizzare l'Auditorium, dando continuità al suo utilizzo dedicandogli una intera stagione teatrale. In programma spettacoli con grandi eccellenze provenienti da fuori regione ma anche produzioni di qualità del teatro locale come la locandiera della Compagnia del Teatro del Loto di Ferrazzano. Previsto anche il teatro per le scuole, due i temi ad essere affrontati, la legalità e la follia, due progetti educativi volti anche a creare sensibilità verso il teatro. L'Auditorium si propone quindi come punto di riferimento per la cultura sul territorio molisano con un'offerta teatrale per i cittadini di alto spessore. Ed ora diamo uno sguardo ai principali quotidiani locali e nazionali con la nostra rassegna stampa. E come di consueto apriamo la rassegna stampa con il giornale del Molise.it. In apertura, area di crisi, centinaia di risposte. La Will serve programma. E ancora altre notizie. Campobasso ospita la prima giornata della psicologia, successo per l'evento. Area di crisi complessa, via il processo di verifica delle manifestazioni, fratture e veneziale soddisfatti. Presentata a Campobasso la stagione teatrale in scena all'Auditorium di Sernia. Ancora altre notizie. Direzione territoriale del lavoro del Molise. Vigilanza speciale nel settore del commercio ambulante. Zuccherificio il 18 ottobre. Consiglio regionale monotematico. Noi con Salvini presenta interrogazione. E ancora altre notizie. Vediamo nella sezione editoriali idee e opinioni. Un articolo a firma di Adele Fraracci. La sorella di Schopenhauer era una escort. Intervista all'autrice Simonetta Tassinari. E ancora altre notizie da Regione, Italia e Mondo. Passiamo allora a primo piano Molise. In apertura, area di crisi complessa, si apre la delicata partita sui finanziamenti. Ottimisti fratture veneziali. Il boom di domande certifica che ci sono le condizioni per la ripartenza. Dopo la call di Invitalia inizia la seconda fase per l'accordo di programma col governo. La parola d'ordine è accelerare a febbraio e bandi per accedere alle agevolazioni. Taglio alto. Nulla di fatto in prefettura. Montaquila via doppi turni e disagi. Ma oggi sarà ancora sciopero. L'asilo di Roccaravindola trasferito a Masserie alla corte insieme a elementari e medie. Le mamme agguerrite. Con dispiacere porteremo i nostri figli in un altro istituto. Dalla Regione, nominato due mesi fa capo del Dipartimento Bilancio Manfredi Selvaggi, getta la spugna. Campobasso c'è già la delibera della Giunta regionale che prende atto delle sue dimissioni. E ancora, ci spostiamo a Boiano. L'uscita dell'ex parroco di Boiano diventa un caso politico e religioso. I gay non hanno diritti e le unioni civili non erano una priorità. Bufera su Monsignor Angelo Spina. Insorge la deputata Cirinà. Il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione è uguaglianza. Non libero arbitrio. Su Facebook la comunità matesina si divide. Molti non condividono la presa di posizione del Vescovo di Sulmona. E vertenza Oti, primi spirali per la CIG di 44 dipendenti dello stabilimento di Pettoranello del Molise. Ancora altre notizie. Taglio basso, protezione civile, l'inverno è alle porte, chiude il campo di torrita e sistemazione più confortevole per gli sfollati. Palazzo Daimmo, presidi smantellati, allarme e autonomia. Dal 2018 sparisce anche il comando dell'esercito. Da Campobasso, scuola di Via Leopardi. Domani il faccia a faccia tra sindaco e genitori. E ora notizie di sport. Serie D, gli attacchi di Lupi e Agnone. Novelli in grana senza una boa. Del grosso studia il WPV. Coppa Italia, le top 16 scendono in campo per l'andata degli ottavi di finale. Calcio regionale. Trivento vuole tornare grande. De Ururi cerca finalmente il salto. E da primo piano ci spostiamo al quotidiano del Molise. Con l'apertura, tutti vogliono investire in Molise. Ora siamo pronti per l'analisi qualitativa delle proposte che porterà la firma dell'accordo di programma. Soddisfatti fratture veneziale per le manifestazioni di interesse arrivate per l'area di crisi. Taglio alto il distretto militare regionale a rischio chiusura entro il 2018. Fondi Unione Europea. Frattura serve flessibilità per il rilancio dell'economia. In tutela dei territori a rischio. Infiltrazioni mafiose istituita commissione in consiglio. E ancora protezione civile. Sisma chiuso il campo del Molise ad Amatrice. E' ispettorato del lavoro. Ambulanti a campo basso. Numerose le irregolarità. E ancora torna il teatro ai Serni. Ha presentato ieri il cartellone degli eventi per l'auditorium. Sindacale. Oti verso l'avvio l'iter procedurale per la cassa integrazione. Per la Fiat di Termoli 25 nuove assunzioni. Spettacolo e folclore con le maitunate di Gambatesa ha conquistato Roma. Notizie di sport. Serie di lupi per Rucci. Rassicura tranquilli siamo da metà classifica. L'agnonese si gode il primato con la miglior difesa del torneo. E dal quotidiano ci spostiamo alla nuova gazzetta molisana. Con una fotonotizia. Tantissime le domande giunte. Fratture Veneziale rilanciano. Anche la Will apre alla speranza. Area di crisi. Appunto sarà la volta buona. Questo l'interrogativo. Il fatto. Quale trasparenza per l'avviso pubblico. Per la microzonazione. E l'ardire. L'articolo a firma di Giuseppe Saluppo. Via anche il distretto militare Campobasso resta disadorna. L'Oscar del giorno. La gazzetta lo dà Vincenzo Cotugni. Presidente del Consiglio regionale. Invece il tapiro a Michele Petraroia. E dalla gazzetta ci spostiamo al telematico futuro Molise. Con allora palata. I cittadini dicono no con una petizione popolare. Ma i profughi arrivano lo stesso. Scoppia la polemica nel piccolo centro Molisano. Contrasto allo spaccio di stupefacenti. Plauso del prefetto guida alla squadra mobile della questura di Sernia. Area di crisi complessa. Via al processo di verifica delle manifestazioni. Frattura e Veneziale. Soddisfatti per partecipazione. E ancora altre notizie di attualità. I Sernia, vertenza a Cantonieri in Consiglio Comunale. Strada percorribile per Di Clemente. Con caso simile risolto con intervento del Consiglio dei Ministri. Dalla politica invece il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno sui nuovi LEA. E uno sui lavoratori cosiddetti esodati. Ed ora passiamo ai quotidiani nazionali. Apriamo con il Corriere della Sera che titola Ecco in apertura Un clima di guerra in Russia. Attenzione internazionale. Cremlino invita i cittadini a prepararsi a uno scontro con l'Occidente. Scorti alimentari, esercitazioni di civili. E Putin salta l'incontro con Hollande. Taglio alto. Vediamo Padoan. Una manovra da 24 miliardi e mezzo. PD diviso. Renzi attacca. Bersani dice Io resto. Conti pubblici confermata la crescita all'1%. Ma rimangono i dubbi dell'ufficio di bilancio. E dal Corriere della Sera Passiamo alla Repubblica Che apre con Renzi ai ribelli PD Se non vi fidate votate pure no. Bersani via dal partito. Serve l'esercito. Il premier. Marino via per buche bus. Padoan. Una manovra da 24 miliardi e mezzo. E ancora la campagna web della seconda generazione con una serie di foto. Immigrati. Le cartoline dei ragazzi. Legge ferma. Dateci la cittadinanza. E dalla Repubblica ci spostiamo alla stampa. Vediamo ancora la stampa come apre. Pronta la manovra. Sale a 24 miliardi e mezzo. Padoan in Parlamento. Scontro sulle stime del PIL 0,8 quest'anno. 1% il prossimo. L'ufficio di bilancio conferma il parere negativo. 4 miliardi a sviluppo e competitività. Altrettanti per il sisma. IVA congelata anche nel 2018. Intervista con Boeri. Senza la riforma dell'Inps. Impossibile introdurre le novità nelle pensioni. Parla Bersani. Renzi sia più umile. Lui non è il nuovo Prodi. E dalla stampa passiamo ora al Fatto Quotidiano. In apertura vediamo Università con la scusa dei Baroni. Renzi si sceglie 500 docenti senza concorso. Il governo vuole nominarsi prof come Mussolini. La rete degli accademici denuncia. era accaduto solo nel 1935 con il reggio decreto voluto dal Duce. E ancora altra notizia. Milano indaga sul sole 24 ore il mistero delle copie gonfiate. Resa dei conti sul quotidiano di Confindustria. Mette gli occhi anche la Procura. E dal Fatto Quotidiano ci spostiamo al quotidiano libero. Un boom della Madonnina. Madonnina, Milano e la Lombardia ai vertici europei. Stando ai dati macroeconomici forniti da Confindustria, il capoluogo della regione si è così sviluppato di recente da non aver più nulla in comune con il resto del paese. Il segreto? Basta lasciare lavorare i cittadini in pace. L'Italia invece K.O. Lo Stato deve alle imprese 18 miliardi. E il governo aumenterà le tasse. Ancora una notizia di spalla. Lo scontro nel PD. I cattolici hanno ucciso i comunisti ma non sanno che fare adesso. E da Libero ci spostiamo al messaggero che apre tagli e crescita. Ecco la manovra. Padoan conferma il PIL 2017 all'1% e il deficit al 2%. Scontro con l'ufficio di bilancio sulle stime. Misure espansive per oltre 22 miliardi e pensioni, PA e famiglie. Premi aziendali detassati. E ancora la fotonotizia che riguarda Putin. Annullata la visita a Parigi dopo le accuse francesi per Aleppo. Bombe sulla Siria. Putin rompe con Olanda. Gelo tra Putin e appunto Olanda. Annullata la visita a Parigi del capo del Cremlino. E dal messaggero ci spostiamo al tempo con una notizia che giunge dalla Sanità. Barella è troppo pesante. Le comiche in corsia. Caos sulle lettighe delle ambulanze del Giubileo arrivate in ritardo. E se ripieghi sui mezzi privati allora il costo è di 1000 euro. ha chiamata. E ancora altre notizie. Ecco con una fotonotizia. Centropagina. Il riscatto richiesto per la liberazione di Cacace e Calonego. Rapiti in Libia. La minaccia è di venderli all'Isis. I nostri servizi segreti serve cautela. Ed ora vediamo come apre il manifesto con la fotonotizia. Carte false. Una riforma confusa e truffaldina. Ricorso sui quesiti spot. Si è aggiunto il carico da 90 dell'ex presidente della consulta unida. Che si rivolge al tarre al tribunale civile sull'ingannevole sommatoria delle materie. Renzi su R3 per la quotidiana overdose di propaganda. E ci spostiamo ora dal manifesto all'avvenire. Vediamo come titola l'apertura il quotidiano della CEI. No all'utero in affitto Europa con le donne. Il fatto? Il Consiglio d'Europa respinge definitivamente il rapporto dei satter sulla maternità surrogata evitata la trappola della legittimazione. Fronte trasversale, bocce e rapporto aperturista. E dall'avvenire ci spostiamo ora al secolo d'Italia con la fotonotizia. Insieme a voi, cittadino scende in piazza. Insieme a noi è l'appello che i sindacati di polizia lanciano dall'ultima pagina del quotidiano. Il tempo. E dal secolo ci spostiamo ora al mattino. Pensioni e crescita. Ecco i fondi. Il Ministro del Tesoro presenta la manovra da 24 miliardi e mezzo. 2,8 destinati allo sviluppo. Spending review per 2,6. Padoan. PIL 2017 all'1%. Ma è scontro con i tecnici. Patto per Napoli. Chiusa l'intesa. Ed ora dal mattino ci spostiamo al quotidiano La Verità. Che apre con Alfano dalla residenza ai clandestini. Colpo di mano. Una circolare del Ministro obbliga i sindaci a rilasciare certificato e carta di identità ai richiedenti asilo. Così accedono a tutti i servizi scavalcando in graduatoria gli italiani poveri. E dal quotidiano La Verità ci spostiamo ora al sole 24 ore. Deficit fino a 13,3 miliardi. Nuove entrate fissate a 8,5. Il Ministro dell'Economia presente in Parlamento appunto la manovra da 24 miliardi. Tagli per 2,6. E UPB conferma il no. Padoan scostamenti limitati, PIL all'1%. E dal sole 24 ore ci spostiamo alla Gazzetta dello Sport in chiusura con la fotonotizia lo schiaffo di Maldini. Il capitano dico no al Milan perché il progetto non è vincente. I cinesi siamo dispiaciuti, si accorgerà presso che non è così. E un De Boer tira l'altro. Inter nel segno dei gemelli. Con dobbia vale Pogba. Ronald, mio fratello, riuscirà a vincere lo scudetto. Frank, posso aprire un grande ciclo nero-azzurro. E con la Gazzetta dello Sport abbiamo chiuso anche la nostra rassegna stampa. Come sempre grazie per averci seguito. Una buona giornata. Grazie a tutti.